salve a tutti e bentornati in un video di ninja classic allora oggi di che parliamo oggi parliamo di un evento solo in particolare perché nel momento di halloween è stato caricato dal 30 mi paro dal 29 vediamo dal 30 30 è stato messo e dura dal 30 al 9 novembre allora si chiama halloween arrives e ha due due cose da prendere che per chi ha molti gold ed assolutamente da fare che sono otsutsuki amura è un demonietto pet che è abbastanza forte i pet più forti hanno il doppio di lui però lui e altri pochi pet sono leggermente meno forti gli altri sono proprio schifo gli altri pet quindi questo è un pet buono non è il super fantastico pet della vita ma è buono perché 100.000 hp 15.000 di speed 8.000 di strategic defense 18.000 di strategic attack 8.000 di difesa e 18.000 di attacco queste stat aggiunte a tutti i vostri ninja è un bel po ci sono dei pet che danno di più tipo che danno esattamente il doppio però ce ne sono tantissimi altri che si trovano sempre in giro che fanno molto più schifo che sono la metà di questo quindi questo qui è nel mezzo è mediamente buono di conseguenza se voi non ne avete di pet speciali di pet rossi vi consiglio se avete tanti gold perché questo evento è dedicato solo a chi ha tanti gold ve lo dico subito perché per prendere il demonietto o hamura oppure altri pezzi per il livello 100 del del set sage bisogna uccidere questi mostriciattoli che ci sono al centro come fare poi ogni giorno avrete la possibilità di cliccare qui daily login pack e prendere le cose che ci sono scritte dentro cioè tre energy spar due feri due color for spar e due color 5 color for soul gli energy spar sono quelli che vi interessano che sono questi quadrettini blu e ve ne danno tre al giorno gratis però ognuno ognuno di questi vi permette di fare un attacco al mostro se voi cliccate qui e iniziate vi consuma un energy spar e fa 5 danni se voi non avete energy spar potete utilizzare i gold per fargli del danno oppure cliccare spendere ancora più gold cioè mille per fargli direttamente 10 ai 10 hit che possono variare di intensità a seconda della vostra fortuna diciamo quindi se io clicco qui spendo mille gold e mi ritrovo mi ritrovo con questo e magari un altro ammazzato questo è morto questo ne arriva un altro a altranza ogni morte di ogni mostriciattoli che voi vedete qui sotto vi danno a seconda della loro rarità vi danno delle zucche io in questo momento ne ho solo tre perché alcune le ho spese nello shop ne avevo 15 alcune ne ho spese per comprare queste super potency pills è ok quindi possiamo se non ci piace il mostro perché queste i mostri sono in rarità e vanno dalla la zucca che una volta uccisa vi da 55 zucche poi abbiamo lo spider che ce n'è da 10 poi abbiamo lo scheletro che ce n'è da 20 la strega che ce n'è da 40 il cavaliere questo è un bel poraro che ce ne da 60 è ancora più raro è il mostro cesta il nostro tesoro che ci può dare da 0 a 200 scary pumpkins cosa ci serve per comprare le cose serie allora per comprare i pezzi quelli importanti dobbiamo avere dobbiamo avere fortuna a comprare a spam proprio in continuazione questi tesori 6 6 3 6 giurli e potremmo trovarci uno di quei pezzi vede visto invece per amura c'è bisogno di 700 pumpkins che vuol dire che non riuscirete mai a prenderle senza senza scioppare senza utilizzare gold quindi prend fare 700 è un impresa solo per quelli che ne hanno un bel po io neanche posso provare perché sto ancora aspettando che mi arrivino i 40 mila gold che avevo fatto col growth plan con growth plan e quindi non posso non posso muovermi per ora ma in ogni caso 40 mila gold non basterebbero perché alcune volte potrebbero questi eventi potrebbero venirvi a costare anche 50 mila di conseguenza se vi ricordate quello che vi ho detto l'altra volta cioè non scendere mai sotto i 40 mila tutti quelli che vedete qui exorcism ranking tutti quelli che tutte queste persone che sono arrivate a 700 queste persone hanno molto più di 80 90 mila gold quindi non avendo niente da comprare queste persone decidono di fare questo evento e prendere amura amura che cos'è un nuovo ninja inserito nel nuovo in questo evento in tutti i server di ninja classic limited ninja anime ninja eccetera dipende ovunque voi siate ci sarà questo evento ed è un il fratello del del dell'eremita dei sei sentieri questo qui amura era risiedeva risiede sulla luna non so se avete visto il film naruto the last se l'avete visto sapete chi amura non ci serve che ve lo dico altrimenti è il fratello del saggio dei sei sentieri mentre il fratello che si chiama ago romo andò sulla terra a fare ninja sulla terra lui sette sulla luna a fare a fare il ninja sulla luna e quindi si è scoperta la sua esistenza le sue abilità durante film e ci hanno fatto il ninja l'hanno messo qui infatti il talento al biakugan che potete vedere a un casino di roba praticamente gli aumenta agilità e forza c'ha 25 per cento di natura cioè appena preso poggiato lì fermo c'ha 25 di speed in più 20 per cento di damage rate in più 10 per cento di injury rate che è tanto e in più e 30 per cento punch rate quando viene attaccato se il ninja che attacca più hp se se amura più hp del ninja che attacca allora amura prende più 20 per cento di magic defense physical defense quando amura è in combattimento aumenta tutti la difesa del supporto del 20 per cento e gli hp degli assaulter del 20 per cento e poi aggiungere altri 20 per cento di hp a al vostro main djutsu user poi a ok quindi schi schiva automaticamente non è possibile bersagliarlo con fari redaction stan quindi è già questo solo il talento non ho letto niente parte le stat che sono assurde anche il growth rate assurdo 25 mila di base al livello 90 credo sia quando si prende al livello 90 o 80 e poi ogni volta che voi lo fate livellare il moltiplicatore a 6,5 che è tantissimo la skill invece six path planetary devastation che sarebbe 280 per cento growth rate riduce le furie dei nemici del 40 per cento dei 40 punti e la speed del 20 per cento per un round li fa sanguinare del 90 per cento il 90 per cento del dell'attacco che hanno quindi più attacco anno più sanguinano per un per un round però poi aumenta il danno degli alleati del 20 per cento per cento per un round e recover vabbè ridà fiori del 30 per il 30 di fiori a tutti gli alleati tranne alla mura e poi 30 da mura che l'hanno messo a fa così e vabbè insomma è fortissimo è un assalter andiamo vi faccio vedere com'è è così questo l'attacco base e questo l'attacco speciale attacca tutti l'attacco l'ennemi si quindi in questo caso noi vediamo solo chi va in testa ma lui farà 55 planetari in testa a tutti ma ce n'è uno solo quindi noi ne vediamo uno male fa tutti quindi tutti quanti prenderanno il bleed un macello insomma è fortissimo però per prenderlo come avete potuto vedere c'è bisogno di prendere sopra i 700 che cos'è questo pannello questo pannello la classifica del della gente che ha partecipato al torneo se tu riesci arrivare al minimo al 100 al posto al posto numero 100 arrivi centesimo per arrivare centesimo in questo momento c'è bisogno di avere 8 scary pumpkins questo con te il massimo che tu abbia mai avuto quindi io anche se ce n'ho adesso 3 ne ho avute 15 quindi mi conterà 15 per sempre a meno che non arrivo a 16 17 oggi magari non lo farò perché non mi interessa questo evento per ora dato che non ho i gold però insomma per prendere il pet come si fa per prendere il pet il pet costa 800 perché come potete vedere tutti quelli che riescono ad arrivare a 800 scary pumpkins prendono il pet è un un level culture pack secondo dove siete della posizione in cui siete level one level cio e ci sono delle degli item che vi servono vi aiutano a livellare il pet ad esempio lì per un stone che vi velocizzano la l'exp del pet quando lo mettete expare di molto perché ce ne abbassano 30 per velocizzarlo di un giorno di 24 ore 500 sono abbastanza magari non arriva al cap non arriva al suo massimo però qualche livello se lo fa è ok che cos'è questo 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 uovo l'uovo serve per darvi ulteriori ulteriori energie spark sparse se voi non li avete non volete utilizzare le hit qui dei gold volete tentare la fortuna perché utilizzando 200 gold vi dà la possibilità di rompere un ovetto ce ne sono dieci di uova rompere un ovetto e se avete fortuna vi darà da 0 a 10 io ci ho provato il primo giorno e ho preso un cazzo per per 8 99 uova mi dava 0 ogni volta quindi speso 2000 gold inutilmente ho deciso di fare fin da che questo evento non esista perché nel mio caso non posso permettermi di spendere 40 50 mila gold perché non li ho e poi però per averli disponibili da utilizzare dovrei avere 90 mila gold perché sempre per il fatto di non scendere mai sotto i 40 mila poi ci sono altri metodi per troppo per prendere energie sparse cioè rompere tutte e dieci le uova e vita a il questo pack buy all eggs daily se io oggi rompo dici uomini anche questo mi da sicuramente cinque sparse e poi ogni mille gold spesi in generale non solo qui in generale mi da dai 0 ai 10 scary pumpkins in questo pacchetto oppure se carico dei gold mi da dagli 800 gold mi da due spar se carico 2000 gold mi da 4 se carico 4000 me ne da 8 carico 8000 gold me ne da 12 12.000 me ne da 15 20.000 me ne da 20 40.000 me ne da 40 e basta qui sul lucky player vi fa vedere tutta la gente che ha avuto fortuna nel trovare agli energy spar o gli scary pumpkin e cos'altro c'è da dire ovviamente se voi fate il top up di 800 gold ogni giorno vi danno 5 energy spar e quelle altre cose sotto e poi basta la low in shop contiene a mura da comprare con 700 poi contiene anche altri pack oltre al sage altri set della katsuki e oppure dell angel oppure ice ghost pet exp nel caso 80 costa se voi volete avete un pet non vi interessa questo ma volete expare il vostro potete cercare di prendere 80 pumpkin per comprare il pet exp pack oppure reincarnation pack se siete al 120 vi volete rincarnare ma non avete abbastanza materiali potete aiutarvi con questo exp pack in generale jade pack socket jade s weapon enhanced talisman che serve per ruppare le armi quelle del del realm poi abbiamo super potency pill che quello che ho comprato io costa solo 12 e poi altre cose quindi questo era l'evento halloween arrives che durerà dal 30 di ottobre al 9 di novembre 9 novembre a mezzanotte a luna meno un minuto tutti i reward tutte le cose che avete preso o che avete vinto vi saranno mandate di questo di questo pannello qui però è a mura ve lo danno subito e gli oggetti che ve li danno subito ma gli oggetti relativi al ranking vi saranno inviati 10 minuti prima della fine dell'evento quindi il 9 9 il 9 novembre a mezzanotte e 49 mettiamo quindi questo era il nuovo evento spero vi sia piaciuto che a me non mi piace più di tanto mi ha fatto un po schifo questo evento vabbè che io non posso permettermelo quindi non mi piace però anche il modo in cui l'hanno fatto di farti spendere così tanti gold per prendere a mura vabbè che ti dà anche il pet quindi alla fine non è tanto 30 40 mila gold ci sta se voi ne spendete 30 40 mila ci sta ma quando si va sui 50 mila inizia essere un pochino troppo vabbè che vi da sia il pet che a mura che proprio che dato che voi avete spesso dovete arrivare 800 quindi voi arrivate 800 e vi conta 800 dopo da quel momento in poi 700 li spendete per a mura mentre 800 gli altri 100 rimasti potete comprarvi qualcosa qualche altra cosina ma se volete veramente comprarvi un bel po di cose si partono 50 mila 60 mila gold e inizia essere un po tanto per un evento forse l'hanno fatto costare così perché c'è mura che un nuovo ninja è stato messo con questo evento quindi probabilmente è stato inserito il 30 nei server del gioco quindi niente per questo video credo sia proprio tutto ci abbiamo messo 15 minuti a parlare di questo evento prossimamente ci saranno altri eventi e altre cose che voglio farvi vedere come ad esempio quando farò il 90 ci sarà un video dove vi faccio vedere 8 gates guy oppure altre cose particolari tipo altri eventi quindi oppure prenderò tra cinque giorni prenderò i taci che mancano pochissimi proof quindi per il momento è tutto ci salutiamo ci vediamo al prossimo video ciao